L'Italia con Giorgia Meloni si presenta al vertice Nato con un governo forte e solido in un'Europa che non può vantare governi con la stessa compattezza. E questo è un motivo di orgoglio per Fratelli d'Italia e conferma il ruolo del nostro Stato sempre più importante in Europa e nel mondo. Onorevole, il gruppo dei conservatori rischia di svuotarsi, insomma, con l'adesione di Vox, di Orban? Assolutamente no. Non vi preoccupa questo? No. Onorevole, lei si sente patriota? Noi siamo stati i primi a parlare di patriotismo quando nessuno ci credeva. Solo per vista. Solo per vista.